Parla ancora di più Non so se avete mai sentito parlare di protesi fisse e mobili, no? Qual è secondo voi la migliore, la protesi fissa o quella mobili? Un po' perché non sento Non so se ne ha mai sentito parlare di protesi fisse e mobili, parliamo di protesi dentali Che idea si è fatta? Faccio il geometra, non so se... Quindi non ha un'idea precisa, diciamo così? Che ne posso sapere, io il geometra faccio A proposito di protesi, no? Parliamo di protesi dentarie Lei che idea ha delle protesi fisse e di quelle mobili? Sono bella però nei tempi miei I tempi miei di 90 anni fa Era una bella Adesso non è più bella la cosa, capito? La gente non è più quella di una volta La gente di prima Con una stretta di mana si stava bella Adesso anche con la stretta di mana finisce tutto Sì, ma io stavo parlando dei denti C'è l'intenzione, quando farò soldi Di andare in un paese poveri Per fare i denti buoni La gente non è più bella